Da tempo si parla della situazione dell'ospedale Busacca di Scicli e nello specifico dei servizi primari da mantenere, dei reparti da aprire, dei posti letto a disposizione, dell'ambulanza medicalizzata e di tanto altro, il tutto a beneficio della collettività. Il Consiglio Comunale Sciclitano Tutto, da parte sua, ha messo al centro del suo programma la questione della sanità locale. Molte scadenze sono state riportate nelle sedute del civico consesso, anche alla presenza del manager dell'ASP7 Maurizio Ericò. Adesso i consiglieri d'opposizione Marino, Buscema, Trovato, Giannone e Caruso asseriscono che si è interrotto un dialogo politicamente costruttivo con la maggioranza. Le scadenze, infatti, risultano non rispettate e non si vedono cose concrete. Come precedentemente detto, inoltre, questi avevano richiesto nei giorni scorsi una conferenza di capigruppo, con vari punti all'ordine del giorno, tra i quali quello relativo allo socomio Busacca. Questa era un'occasione utile perché il Consiglio Comunale Tutto, al di là di maggioranze d'opposizione, poteva trovare sinergicamente una soluzione utile e comune. La minoranza richiede ancora la convocazione di un nuovo Consiglio aperto sulla questione, perché, come si legge nella nota, bisogna portare avanti il percorso intrapreso nelle opportune sedi politiche, e non solo attraverso i convegni, comunque utili. Vogliamo augurarci che tutti i cittadini, per mezzo dei loro rappresentanti, potranno tornare democraticamente a dibattere in Consiglio in merito all'ospedale Busacca e alle numerose problematiche non risolte, ha continuato l'opposizione. I consiglieri di minoranza, comunque, si chiedono come mai la maggioranza abbia interrotto quel cammino di unità e coesione che stava contraddistinguendo l'operato del Consiglio Comunale, portando avanti, invece, un convegno escludendo l'altra parte del Consiglio Comunale. Dal canto suo, la maggioranza utilizza anche questo metodo, proprio per fare il punto sulla situazione del presidio ciclitano e così dare risposte ai cittadini. D'altra parte, si auspica che, essendo che la democrazia impone una dialettica costruttiva, questa non venga a meno.